Siamo con Mr. Rumma, Mr. L'Unione è partita bene, poi tra il tredicesimo e il sedicesimo il Mola ha prima sbloccato il risultato e poi raddoppiato e poi comunque ha incanalato i tre punti verso la cittadina barese. Cosa è mancata all'Unione per evitare questo sconfitto e quanto meno questo punteggio? Ha probabilmente mancato tutto perché è una prestazione che c'è ben poco da salvare e dobbiamo sicuramente cambiare atteggiamento se vogliamo cominciare a fare punti perché la partita di oggi è la dimostrazione che la squadra in questo momento ha bisogno di rimanere con umiltà e non facendo riferimento al risultato di domenica scorsa contro il Barletta. Noi sappiamo che siamo una buona squadra però oggi probabilmente è una giornata assorta per tutti e vuol dire che da martedì dobbiamo ripartire più forti di ieri. A proposito, da dove si ripartirà in martedì in vista anche della gara di Coppa? Si ripartirà dalle certezze che abbiamo perché noi sicuramente non è il risultato di oggi che deve cancellare tutto quello che pensiamo di questa squadra. Noi sappiamo che siamo una squadra che deve lavorare e può raccogliere risultati, può raccogliere punti. Quindi ripartiamo dalle nostre certezze, dalle cose buone e sappiamo che dopo il risultato del genere dobbiamo cambiare e dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista. Nelle prossime partite scenderà in campo Manzari e in Zingrillo. Adesso vediamo come sta Manzari e speriamo di recuperarlo il prima possibile perché sicuramente è un giocatore che ci deve dare una grande mano. Quindi adesso martedì riprendiamo a lavorare e cerchiamo da giovedì di cambiare subito, di voltare pagina.